Che giocatore Christian Eriksen, che giocatore, punizione magnifica al 98esimo minuto di recupero, a 2 minuti alla fine erano ben 10 i minuti di recupero, mamma mia, pazzesco, che punizione al bacio di Christian Eriksen, da Tarosano, fermo, non può farci niente, grande giocatore, entra e segna e regala la semifinale di Coppa Italia all'Inter, che batte per 2-1 il Milan, quindi due derby per ora, uno vinto al Milan, 2-1 all'andata e questo qua 2-1 l'Inter, Coppa Italia. Milan che va in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic al 31esimo minuto, suo assist di Meite, poi al 71esimo minuto arriva Romelu Lukaku su rigore, che c'era, era evidente il rigore, tira anche un bel rigore con il rischio della traversa e poi Christian Eriksen mette a rete, in rete questa punizione magnifica. Comunque domani, domani credo che farò un'analisi comunque più approfondita di questa partita perché è successo veramente di tutto, infatti non perdetevi il video di domani dall'arbitro che è uscito a Ibra, che è stato espulso, veramente è successo di tutto, mamma mia che partita, che partita. Quindi l'Inter che va in semifinale, Milan eliminato dalla Coppa Italia, grande Lukaku e grande Eriksen. Eriksen che è entrato all'ottantesimo minuto e dieci minuti dopo regala il gioiello all'Inter che permette il passaggio del turno. Mamma mia, che partita, molto bella, abbastanza pulita, si potrebbe dire anche se c'è stata una rissa incredibile tra Lukaku e Ibra, però il resto abbastanza pulita, poi bella, l'Inter ha assolutamente meritato la vittoria, secondo tempo dominato, ha avuto anche altre occasioni altrettanto pericolose, poteva vincere anche 3-4-1 per quanto riguarda il secondo tempo, mamma mia, mamma mia, grande, grandissima partita.